Un grave incidente è accaduto attorno alle ore 14.30 sulla strada statale 16 all'altezza dello svincolo per Margherita di Savoia. Un Audi A6, per cause ancora in corso d'accertamento, ha terminato la sua corsa impattando violentemente con un camion di grandi dimensioni e finendo sotto il mezzo. Il sinistro è avvenuto esattamente nel punto di svincolo per la città salinara, da una primissima ricostruzione al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Sembrerebbe che il camion stesse svoltando in direzione Barletta, pur avendo già intrapreso la corsia per proseguire verso Foggia. A questo punto è sopraggiunta l'Audi A6, che non è riuscita ad arrestare la propria corsa in tempo prima di terminare contro il tir. Ferito in modo grave, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'auto, un uomo di 28 anni, soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale Bonomo di Andria. Giunto al non so come andriese, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai carabinieri per i rivievi, i vigili del fuoco e la polizia locale di Margherita di Savoia. Rallentamenti sull'arteria, l'auto è andata completamente distrutta nella parte anteriore.